Ronde antinquinamento per prevenire ogni forma di sversamento nel torrente solofrana e quanto è venuto fuori dall'incontro tenutosi nella serata di ieri a Montoro tra i componenti del comitato difendiamo salute ambiente a confrontarsi con gli stessi ragazzi che nelle scorse settimane cellulari alla mano hanno documentato gli sversamenti abusivi nel corso d'acqua. Il comune di Solofra ha attivato una task force per pizzicare i furbetti dello scarico ed i primi risultati sono arrivati anche grazie alla collaborazione con i carabinieri polizia municipale arpac e codiso i sigilli a una conceria che non solo sversava abusivamente ma che non rispettava la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma non basta il torrente secondo i ragazzi montoresi va sorvegliato 24 ore su 24 e quindi già da questa sera partiranno i controlli nel territorio montorese